Ciao, sono Federico Fazzi, insegnante dell'Accademia Musica Moderna. Sono specializzato in afro metal, anche se vengo dalla cultura del rock e del metal. Da quando però ho iniziato a studiare le ritmiche afro-latine, il mio vocabolario si è ingradito tantissimo e ho iniziato ad avere una musicalità e delle idee molto più interessanti. Se anche tu vuoi affrontare questa tematica, sei il benvenuto, questo è il posto giusto, ti aspetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.